www.castelloincantato.it La notizia Corre in rete Gentili visitatori di Castello Incantato Ecco, inizia con questa prima puntata una rubrica dal titolo in giro attraverso la terra di Manfredi i visitatori di Castello Incantato che ci seguono ecco, in tanti ecco, ciò che succede qui a Mussomeli cosa vediamo, notiamo, rileviamo un po' dalla quotidianità è una rubrica che vuole rendere partecipe i visitatori di Castello Incantato anche per segnalarci le cose che vanno e anche quello che hanno bisogno di più attenzione stamattina ci regheremo in casa Famiglia Rosetta una bella struttura da tempo radicata nel territorio dove da qualche giorno ci sono due religiosi ecco, che vengono ad esploitare il loro servizio a favore, ecco, degli utenti della struttura stessa intanto un saluto va a tutti quanti voi da parte di Termolo Barba e Salvatore Favata che cureranno appunto la rubrica rubrica che come abbiamo detto ha il titolo un viaggio, o meglio, il viaggio attraverso la terra di Manfredi ci troviamo all'interno della casa Famiglia Rosetta e abbiamo qui con noi Suor Irene ecco, al secolo era Gabriella di Gammarata ecco, oggi Suor Irene delle sorelle minori di San Francesco che ha la sua sede a Tusa ecco, come mai? ecco, Gabriella tutto in una volta è diventata Suor Irene lo vuole dire agli visitatori di Castello Incantata? tutta una volta no perché c'è un cammino tutto spirituale un cammino di formazione che una persona vive io facevo parte della Gifra a Cammanata facendo questo cammino francescano senti un desiderio di dire Signore, cosa vuoi dalla mia vita? e allora cercando e volendo la volontà del Signore capì che forse lui mi chiamava una vita spesa per lui e per i fratelli e allora nel 98 iniziai questo cammino quindi praticamente dal 1900 quindi sono più di dieci anni che è Suor Irene ecco, la sua vita è cambiata in questo cammino interpreso appunto da dieci anni è cambiata? notevolmente è cambiato sia umanamente mi sento molto diversa da come ero prima e anche spiritualmente si cresce poi per quello che mi piace della nostra vita è la semplicità quindi vivere un convento del 1500 vivere una vita semplice penso che per me mi dà tanta ricchezza e ha dimenticato Cammarata proprio tutto io non ho dimenticato Cammarata non ti dimentica Cammarata ah non ti dimentico dove ci sono gli effetti? certo, certo infatti per il grande desiderio l'amore per Cammarata nel 2007 io ho fatto la professione solenne a Cammarata nella parrocchia San Vito c'era tanta gente a Cammarata? c'era tanta gente perché ho anche voluto regalare al mio paese una missione noi come specifico facciamo le missioni popolari e quindi ho voluto regalare al mio paese una missione e la missione si concludeva con la mia missione e oggi qui a Mussomeli nella casa e con la famiglia di Rosetta lei assieme a Frappiglio cosa state portando avanti? noi portiamo sempre Gesù Cristo la prima cosa poi veramente un grazie va a Padre Sorce Gesù Sorce lui che ha realizzato tutto questo che noi vediamo lui vuole sempre lanciare un messaggio di speranza e di Gesù ai suoi operatori e soprattutto a chi ha bisogno ai pazienti e quindi è da un due anni che facciamo questi incontri due volte all'anno noi veniamo per due o tre giorni nell'associazione di casa Rosetta e cerchiamo di portare Gesù con la semplicità della nostra vita a Mussomeli, ecco, in questi giorni cosa l'ha colpito di più? cosa mi ha colpito di più? è l'accoglienza di questi operatori il bene che danno ai pazienti si respira un primo familiare casa Rosetta è una casa di famiglia io ho respirato la famiglia qua e dove c'è famiglia penso che sia la cosa più bella accanto al suo rirene ecco, c'è Gera Mancuso ecco, a lei vogliamo chiedere una semplice cosa lavoro qui al casa familiare Rosetta la sua quotidianità, come la passa? allora, io sono una fisioterapista mi occupo della riabilitazione neurologica attenzioniamo qua pazienti di diversa natura come sclerosi multipla l'ictus anche bambini con problemi neurologici praticamente cerchiamo di fare il nostro meglio e stare a contatto con sia il paziente anche con la famiglia e questi momenti con la sora, Irene e fra Pio sono stati momenti bellissimi perché ci aiutano veramente perché c'è un clima di sofferenza c'è un clima di ansia in questi pazienti perché loro ci hanno insegnato che a volte non si può non si cammina solo con le gambe ma si cammina molto anche col cuore quindi il nostro ideale è quello di portare a una vita questo che è normale quindi una è abbastanza un'altra operatrice ma un momento questo ecco sono dolcini sono dei panni di San Calogero dolcini di San Calogero a Santa Rita io non sono di qua quindi di Santa Rita abbiamo scambiato santo abbiamo scambiato santo ecco lei il suo nome? Alida ecco ecco la sua vita qui all'interno di Casa Famiglia io sono un'assistente sociale e mi occupo del servizio extramurale ovvero noi operiamo in tutte le scuole del ballone e facciamo la terapia organizziamo le terapie con i bambini che ne hanno bisogno facciamo la logopedia la psicometricità e la fisioterapia e andiamo proprio a lavorare all'interno delle scuole dopo una richiesta dai vari presi quanti utenti ci sono? noi come extramurale siamo abbastanza una quarantina di utenti abbiamo i ragazzi i bambini è soddisfatta del suo lavoro lei si realizza? sì sì io sono molto soddisfatta ok grazie abbiamo l'intervista alle persone alle operatrici che sono in questa stanza e con noi c'è Silvana Silvana Schifano ecco cosa puoi dire ecco ai chi ci segue attraverso Castello Incandato cosa sono il tuo lavoro che messaggio che vuoi dare? io sono pure un'assistente sociale mi occupo del centro di riabilitazione ambulatoriale dove affluiscono persone che hanno delle problematiche neurologiche che trattiamo con diverse terapie che vanno dalla fisioterapia psicomotricità psicomotricità e logopedia abbiamo diversi utenti che provengono da diversi paesi limitrofi e che è una realtà che esiste da diversi anni da circa 25 anni anzi quest'anno facciamo proprio il 25esimo 25 anni di presenza nel territorio nel territorio di Mussomeli sì anche perché Casa Rosetta è presente anche a Caltanissetti anche in altri paesi in altri paesi in Riesi poi abbiamo una struttura a Ragusa siamo presenti anche a Roma e siamo presenti anche in Brasile e in Africa ok una bella carrellata per presentare Casa Famiglia Rosetta mentre facciamo un giro all'interno di Casa Famiglia Rosetta siamo venuti a trovare Frappio che da qualche giorno assieme a suoi Irene stanno portando avanti il loro servizio qui appunto presso Casa Famiglia Rosetta ecco Frappio viene ecco dalla Francia è nato a Parigi ecco ci parli di lei dunque io ho ricevuto ho incontrato ho trovato la mia vocazione nel 1981 durante una messa di Pentecosti in un monastero di Benedettini e durante quella messa ho avuto la grazia di sentire di comprendere la mia chiamata non ho visto niente non ho sentito nulla ma ho avuto nel cuore una certezza che Dio mi chiamava alla vita religiosa poi ho fatto un cammino di discernimento per cinque anni all'incirca col padre spirituale fin quando ho incontrato i fratti minori rinnovati di questa famiglia francescana nella quale sono entrato nel 1987 e adesso sono 25 anni che sono in questa famiglia religiosa sono stato nei vari conventi a Corleone a Napoli anche a Roma per due anni e adesso sono nella quinta di Corleone ecco la sua permanenza anche se di pochi giorni qui a Musome cosa state portando avanti perché si sono rivolti a voi ecco la situazione casa famiglia lo so cosa vedono in voi allora perché noi conosciamo il padre Vincenzo da un po' di anni a dire il vero non da molti anni lui c'è dedicato agli esercizi spirituali e c'è chiesto questo servizio di presenza spirituale all'interno delle strutture di casa famiglia Rosetta proprio perché il servizio sociale umano che si rende all'interno delle strutture di casa famiglia Rosetta deve essere anche motivato a livello spirituale a livello cristiano dunque non si tratta di sostituirsi ai servizi che già si svolgono ma di dare una motivazione in più che è quella del Vangelo di modo che gli operatori oltre alla competenza come dire professionale e tecnica abbiano anche una motivazione in più che li aiuti a svolgere bene il loro lavoro e a comprendere che magari sono nelle mani di Dio come degli strumenti per prendersi cura delle persone che si rivolgono all'associazione di casa Rosetta ecco i suoi familiari dove risiedono? io adesso sono un fratello e una sorella a Parigi in Francia a Parigi ecco cosa vuole dire a loro perché potranno anche vederlo questa intervista la potranno vedere attraverso il sito www.castelloincantato.it ecco cosa vuole dire al suo fratello quello che sempre mi ha detto che chi incontra il Signore è felice che a dire di sì al Signore non si cadde nulla si guadagna tutto che dunque non dobbiamo avere ma questo lo dico non solo a mio fratello lo dico a chiunque ecco appunto un messaggio che voglio lanciare a tutti quanti un messaggio francescano allora San Francesco era un commerciante e l'affare più grande che ha fatto San Francesco è quando ha venduto tutti i suoi beni o li ha restituiti al padre e nudo e cocifisso ha seguito il Signore Gesù in quel momento umanamente aveva perso tutto ma in realtà è stato l'affare della sua vita che è diventato l'uomo più ricco del mondo perché ha trovato la perla preziosa che è quella del Vangelo e dunque invito a tutti essere buoni e commercianti a perdere il poco e a guardare il cuore degli anni in molto ecco e agli operatori di casa famiglia Rosetta cosa vuole dire? ricorderei intanto vi ringrazio per l'acquaglienza che ci hanno manifestato in questi giorni ma non solo a me ma anche ai fatti che sono venuti nelle missioni precedenti ricorderei soltanto questo versetto del Vangelo Gesù dice tutto quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatto a me le persone che vengono nella struttura dei musulmani non sono i grandi di questo mondo non sono piccoli o per disagi mentali disagi fisici sono piccoli ma sono i piccoli fratelli di Gesù e allora tutto quello che si fa a loro è grande perché si fa al Signore Gesù ok e allora gentili visitatori di Castello incandato siamo stati qui presso Casa Famiglia Rosetta dove abbiamo incontrato Fra Pio e Suor Irene a tutti quanti un saluto da Carmelo Barba e Salvatore Favate Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori